Oggi intanto abbiamo deciso che si fanno, lunedì faremo il regolamento. Ma ci saranno liste? Pensate che bella notizia che è, che di fronte al persistere del Porcellum il Partito Democratico non nomina i propri parlamentari ma le fa scegliere dalla base elettorale delle primarie del 25 novembre e 2 dicembre. Questa è la notizia, tutti d'accordo e naturalmente lunedì faremo il regolamento. Per le deroghe? Faremo il regolamento lunedì.